Le cucine di Villa Lario Le cucine di Villa Lario Si passa al filetto di capriolo con crema di zucca e cime di rapa, opera di Giancarlo Morelli, per terminare con la crema al limone mentuccia di Enrico Derflinger e, dulcis in fundo, la Mia Savoia, targata Filippo Lamantia. Grazie a tutti.